Ti piace molto Vittoria Mattia? A me piace Vittoria Si ha visto Ha detto? Mi piace Vittoria Eh sceglila dai, così Può anche sceglierla no? Beh ci sono delle cose che magari sono reali Magari a lui piace davvero Vittoria Eh infatti, beh questo è fuori discussione Ti piace di più delle altre? Sì E allora? Che potrà cambiare? E' anche la persona che ho costruito di più Sono sette, otto esterne Allora Maria tu dimmi, rispondi Un discuto eh Maria scusa, che può cambiare da qui a tre settimane? Cioè lei è un pezzo avanti rispetto alle altre due, giusto? Beh certo Ecco, allora che dobbiamo aspettare? Che dobbiamo aspettare? Natale? Beh però la stessa cosa in questo momento puoi dirla anche di altri, no? Beh Maria ma sugli altri non sappiamo, non abbiamo nessuna... Io ho la certezza che lui sceglierà infatti poi dalle risposte che sta dando Non è che sono molto lontana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti